andiamo nella sala ora andiamo nella sala non si vede il mio ma io mi... a me non... a che cazzo è che ci disturba zitto vediamo se devo portare a che cazzo è che ci disturba nella sala quanto voglio questo non posso anche così che cazzo cibo che cazzo cibo che cazzo facciamo guarda la musica passate che inizia qualcosa ma fangola la musica non niente non niente non niente che cazzo non devi la faccia senza il video dai carina guarda sto video no no ma che faccio da... c'ho delle rughe eh no c'è una stronza qui addio no niente troppo oh mi dirò un primo no stai Sì, ma la scuola... Sì, ma la scuola...